Salve carissimi, io sono Nicradogna Oh oh, ma che cos'è che è successo? Perché sono tutto blu? Perché sono tutto colorato? E beh, mo te lo spiego Oggi dobbiamo andare a giocare un bel gioco che si chiama Balloon Pop Runner Ed eccoci qua, infatti adesso dovete mettere un bel like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina E iniziamo il nostro gioco facendo così, così e così, diventando sempre più grandi Perché noi abbiamo questo gran palloncino Prendiamo pure il diamante e finisce qui il nostro primo livello che è molto facile Tocchiamo qui al centro, perfetto Mamma mia, proprio sullo spuntino, vai, siamo a 600 punti, godo, godo Andiamo con il nostro secondo livello, bene, bene Oh oh oh, che cos'è che abbiamo fatto? Il nostro palloncino si ingrandisce, abbiamo preso il T-Rex che distrugge tutto Vai, vai, gigantesco, mamma mia, qua abbiamo fatto un botto di punti, sicuro Aspetta, devo beccare il 3, 1, 2, 3 Va bene, l'ho beccato, vediamo ora che punti faccio Dai, più di 600, sì, 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 mille, mille, vai Vai, si gode, si gode E andiamo col terzo livello E qui abbiamo la bambola di Squid Game Mamma mia, praticamente ci possiamo muovere solo quando è verde Però ho paura Andiamo, andiamo Oh, mamma mia, devo anche rimanere fermo Vai, 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 vai Cavolo Vai, 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 vai Mamma mia, no ragazzi che livello questo Mardo, che ansia Dai che la dobbiamo ammazzare Sì, 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 l'abbiamo sconfitta Vai, ingrandiamo tutto Vai, 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 vai Perfetto No ragazzi, guardate quanti punti che facciamo adesso Oh, vai No ragazzi, più di 1000 sicuro qui Più di 1000 Mamma mia E che LGBT qua Vai, vai Mamma mia 3900 punti Siamo fortissimi Sto gioco è la vita Procediamo con questo bel livello Vai, vai Questo dovrebbe essere quello basic Ingrandiamo tutto Ingrandiamo tutto Siamo sui palloncini Mamma mia Gigantesco sto palloncino Gigantesco proprio Vai, vai Pure con la calamita Così prendiamo tutti i barattoli di elio Mamma mia Qua veramente punti a go go Vai, vai Questo è il livello extra Becchiamo il 3 Vai Vai Si vola Si vola Martin Garrix Bellissimo Guardate quanti punti 9000 punti Ma sempre meglio Sto gioco mi sta piacendo Poi tra l'altro Sto blu Sono proprio un clown oggi Tra palloncini Circhi E giochi belli Stiamo apposta E andiamo qui Con il quinto livello Sembra facile Sinceramente Invece no Caduta libera E che è il programma di Jerry Scotti Vai, vai Andiamo qui a più 55 No, no Va bene Ingrandiamo Ingrandiamo Andiamo a più 80 Wow Eh, ma qua ce li distrugge tutte Vai, vai Palloncini 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 Vamos Prendiamo i nostri bei diamanti E siamo pronti Vediamo quanti punti facciamo qua Ancora un per il 3 Vai, vai, vai Bommete Eh, dove mila Qua non li fai E nemmeno 6.000 Secondo me 3.800 Dai, io non mi lamento Oh, adesso siamo dei bei T-Rex Procediamo Attenzione Mamma mia Evitiamo Oh, pure col cappello Stiamo apposto E adesso Mamma mia Meno male Che ha zompato Vai, vai Zompiamo Allora Oh, le Vai, vai Mamma mia Quanto siamo bravi Quanto siamo bravi Mamma mia Questo livello L'abbiamo fatto egregiamente Ancora Ah, con un per due Vai Molto rebole Questo saltino Però Non ci lamentiamo Andiamo avanti Con il settimo livello Oh, dobbiamo fare attenzione Qui Ingrandiamo i nostri Palloncini Madò Madò Che skill Che skill Oh, ma che Siamo diventati Dei serpenti Oh, però almeno possiamo passare Sotto tutte le robe Diventiamo nuovamente Dei t-rex Distruggiamo questo E ingrandiamo ancora Il palloncino Mamma mia Skill, skill Per tre Perfetto Vai, voglio almeno Settemila punti Ti prego Aia, aia, aia Pochi, pochi Quattromila Quattromila e cinque Non ci lamentiamo Perché comunque il livello L'abbiamo fatto veramente Perfettamente Ottavo livello Oh, diventiamo dei cagnolini Che salta Pur so cagnolino Bello Prendiamo i diamanti Saltiamo nuovamente Ragazzi Sto gioco Mi piace No Ho beccato l'ostacolo Diventiamo babbo natali Oh, oh Che dobbiamo fare qua Ah, ma forse poteva andare E poi qua io mi posso anche fermare Ma si può rifare il livello? Cioè, ma è facile così Allora, sto livello l'ho fatto male Perché ho scoperto Che comunque mi posso fermare Andiamo con un altro tre perfetto Però sto capendo come si gioca Perché solitamente Non ti puoi fermare Durante i percorsi Invece qui sì Quindi è più strategico, eh Questo è un bel percorso Siamo al nono livello E mo' come faccio? Ah, ho avuto lo scudo Ok Ingrandiamo ancora il nostro palloncino Andiamo così Attenzione Aia, aia Diamanti E adesso? Ah, ok Meno male Andiamo avanti Ok Mamma mia Ok Penso che l'abbiamo fatto perfetto Questo pallone Ole Tre perfetto Vai, vediamo quanti punti facciamo adesso Vamos Ole Almeno 3000 A posto 3002 Decimo livello Siamo dei T-Rex Adesso non più Vai Ingrandiamo e manteniamoci in equilibrio Mamma mia Vai Prendiamo i diamanti Perfetto E adesso Caduta libera e si scivola Prendiamo tutti i palloncini Ingrandiamoci di nuovo il pallone E attenzione qui Attenzione qui Bello Bello Livello perfetto Guardate quanto è questo pallone Ole Tre perfetto Dai voglio almeno 10.000 punti Ti prego 10.000 Ti prego Dai che ci siamo No invece no Siamo a 7.500 forse 7.800 Non mi lamento Non mi lamento Siamo all'undicesimo livello Siamo degli unicorni Ma Ah Potevo prendere questi così per ingrandirci Ok Ah Meno male Meno male Ok Facciamo così Aia No Gli sto zompando tutti Va bene Ah ma questo è un livello extra Ho capito Faremo veramente niente di punti qua Vabbè non fa niente Non fa niente Vediamo quanti Ole Ma Mag2000 2002 Vabbè dai non vasci nude Comunque lasciatelo un bel like per questo bel make up Come sono bello tutto blu Siamo nuovamente degli unicorni Sompiamo così Ingrandiamo per bene Vamos Ingrandiamo nuovamente Vamos Voglio diventare un T-Rex che distrugge tutto E forse ho anche sbagliato Invece no Ingrandiamo per bene Ole Già finito questo dodicesimo livello E andiamo con il per due Non per tre Mannaggia Vai 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 Pochino Pochino sinceramente Prossimo livello Oh Delle streghe siamo diventati Oh Siamo andati sotto a terra Lì c'è bello Vai 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 Ritorniamo qui Mamma mia che bello essere serpenti Facciamo così Andiamo di nuovo sotto Vado Tutti i livelli ci stiamo saltando Ok Passiamo da sotto Ingrandiamoci per bene Il palloncino è gigantesco Vediamo adesso Dai un bel per tre Che poi di regola col serpente siamo più leggeri Quindi vogliamo di più forse Ma non credo Ma non credo Infatti siamo a Quattromila e sei Siamo al quattordicesimo livello Suppongo Mamma mia E qua che facciamo Oh 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 Ma come si fa Madò Madò Vabbè non fa niente Ingrandiamoci Ingrandiamoci Ayamano Ma ci distrugge tutto Madò Madò Vai vai Non fa niente Non fa niente Vai vai A posto Allora non è andato benissimo sto livello Almeno il track perfect l'abbiamo fatto Vamos Penultimo livello di questo video Però Però Siamo arrivati a 7400 Che è veramente tanto E siamo arrivati all'ultimo livello di questo video Partendo da bei serpenti Andiamo già sotto A posto Ci siamo trasformati Prendiamo tutto questo elio Madonna No mi ha maciullato tutto Attenzione Adesso mantieni l'equilibrio Mantieni l'equilibrio Ok Cerchiamo di prendere tutti questi Va bene Va bene Ragazzi Questo è l'ultimo livello Vediamo quanti punti facciamo Devo prendere il 3 Sì Sì Ho preso il 3 Vai Voglio almeno il 10.000 Ti prego Almeno il 10.000 Ti prego Almeno il 10.000 Voglio finire per bene questo video Sì Voglio We are the champions Come canzone qua 16.700 punti E' record questo E' record del video Ragazzi Lasciate tutti un bel like 5 4 3 2 1 E bene carissimi Allora Il blu ha portato bene Ha portato benissimo Quindi io vi chiedo Di mettere Almeno 2.943 like Per fare il secondo episodio Perché dal quindicesimo livello Possiamo arrivare al Trentesimo livello No Quindi vi raccomando Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Attivando la campanellina Andate su Nickradonia.it Per queste felpe bellissime E poi seguitemi anche su Instagram Perché fa sempre piacere Quindi noi ci vediamo Come sempre In un prossimo video Ciao carissimi 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 Ciao carissimi